Due anni fa, a novembre 2019, noi di Bass Community ci incontravamo per la prima volta a Music Show di Milano per il primo Bass Community Meeting. Dopodiché il mondo è cambiato. Tutti sappiamo perché. Nel 2020 non c'è stato il Music Show, quest'anno, nel 2021, finalmente c'è stato di nuovo il Music Show. Io non ho potuto essere presente, però, per motivi vari, tra cui un pargolo di quattro mesi. Con mio sommo piacere, però, l'occhio di Bass Community ci è stato, nella persona di Gabriele Panetta, che ha girato delle fantastiche immagini, e comunque diversi ragazzi si sono incontrati. Quindi ringrazio Davide, ringrazio Cristian, ringrazio Luca e tutti gli altri che hanno un po' animato queste riprese, che io vi ripropongo in maniera molto tranquilla e flat, così come sono state girate. Diciamo, danno molto l'idea di come è una fiera di questo tipo e di come si svolge, appunto, la visita tipo. Quindi non ho voluto aggiungere musica, ho voluto lasciare proprio i rumori di fiera e mi sono limitato a fare un montaggio rapido, ecco, mettiamola così. Quindi, grazie ancora Gabriele e facciamoci una passeggiata al Music Show di Milano con Bass Community. Quindi poi riprendiamo con questa. La stai riprendendo? Ovvio. La prima prova del giorno. Eh, guarda un po' chi è arrivato qua. E ora vi facciamo vedere dove siamo. In mezzo ai bassi. Tata tata tata. Com'è? Nella città dei bassi. C'è tutta sta roba lì per di design, per tecnologica, per l'epoca e c'è? Ah, mi ha capito un genovese, Belinda, da qualche parte. Guarda un bassista. Uno di quelli capaci. Come è? Ciao, ciao. Ciao, Carmelo e Carlo. Tutti qua. Tutti quanti, la bass community. Qua? Lei è un po' di mezzo ai fondamenti. E' un po' di mezzo ai bassi. No, non è un po' di mezzo ai bambini. No, non è un po' di mezzo. No, non è un po' di mezzo ai bambini. Ecco, considera che le barre di rinforzo che mettono in certi passi o le ritardie classiche fanno sì che non serva il trasformo, in questo caso è tutto così e quindi diciamo a mettere il trasformo sarebbe benissimo che bello Grazie a tutti 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 Grazie a tutti